Chiamo qui Carla Mascarello anche per fare un saluto, un saluto a tutti collegati in videoconferenza sulla web, Carla Mascarello di Pensiero Fluente. Grazie, buonasera a tutti, benvenuti. Volevo solo dire due parole brevi sul perché abbiamo scelto questo titolo per la conferenza. 2012 l'inizio. Chi segue Pensiero Fluente sa che da sempre parliamo di cerchi nel grano e di UFO e il 2012 è strettamente collegato con questo argomento. Si parla di attacchi alieni, catastrofi, c'è chi pensa che non capiterà niente o chi pensa che arriverà a questo mondo di amore e di fratellanza. Noi questa sera vogliamo darvi uno spunto diverso. Grazie a Gennaro Dermini e l'Emen23 vorremmo provare a partire dal passato per comprendere il presente e dare una spiegazione a questo futuro che ci spetta, che ci arriverà e che sarà un futuro frutto di una nostra scelta, della nostra volontà, perché se il 2012 sarà un inizio sarà il mondo di un uomo più consapevole di se stesso, delle azioni che compie, del mondo che intorno e delle energie che intorno. Ma lasciamo spazio agli ospiti. Grazie. Grazie, grazie. Io direi anche di presentare Cristian Amadeo che questa serata mi affiancherà nella conduzione, anzi perché poi anche Cristian è un conoscitore degli argomenti. A questo punto, Cristian, un saluto a tutti e anche agli spettatori del web, visto che ci seguono sul sito di l'Emen23.org. Questa sera ovviamente abbiamo annunciato gli argomenti che si affronteranno. 2012 e argomenti correlati, quindi tutto quello che gravita intorno a questa fatidica data che alcuni annunciano, come diceva giustamente Carla, in modo catastrofico oppure l'inizio di un qualche cosa. Speriamo ovviamente che sia l'inizio di un qualche cosa e noi cercheremo di affrontare questi argomenti. Quindi argomenti che tra l'altro si portano avanti da tanto tempo, soprattutto il discorso dei UFO, presenze aliene, cerchini al grano, sono ormai tantissimi e da tantissimo tempo che si parla di questi argomenti. Lo vediamo anche nell'arte, nella letteratura, nella pittura, nella musica. Insomma, diversi interessi per questi argomenti. Noi cerchiamo, anche grazie a contributi video, video che alcuni sono abbastanza, diciamo che sono, tra virgolette, attendibili, nel senso che sono scientificamente provati, altri che vengono presi dal web sono più che altro immagini suggestive, ma quello che interessa poi è l'associazione Pensione Cluente e di trasmettere un messaggio, comunque trasmettere degli interrogativi su determinati argomenti e quindi questo sarà il motivo e quello che trascina poi i nostri video. Iniziamo subito con la presentazione di Lime 23. A tutti, buona serata, grazie.